I giochi come può essere Arc o anche PixArc esistono due tipi di Taming, cioè due possibilità di poter catturare gli animali. Quindi un Taming attivo, quindi dovremmo munirci di arco e frecce narcotiche e narcotizzare l'animale, ma anche il Taming passivo che è quello più veloce. Per fare il Taming passivo che va magari soprattutto sopra gli animali docili, come possono essere questi dodo, basterà avvicinarci e ghiacciare qui il tasto E e poi lui vi dice che cibo gli serve per essere catturato e qui ci vogliono delle bacche. Quindi praticamente vi lo farà prendere semplicemente cliccando il tasto E e poi vi darete un nome e questo è vostro. A questo punto potrete accedere alla ruota degli animali e togliere l'inseguimento, perché se no ve lo trovate sempre che vi insegue. E andiamo a mettere, troppo è un po' buio, questo dodo nel nostro recinto, perché questo animale ci servirà poi per fare le uova. Quindi maschi e femmine vanno messi qua. Intanto ho fatto anche questa mangiatoia, dove andremo a inserire poi il loro mangiare preferito, quindi sia un po' vegetale sia un po' carne per gli altri animali. Allora abbiamo preso questo triceratoco di livello 13, perché era qui in casa. Questo è un animale che si prende in maniera passiva. Ora gli vado a fare la sella, vediamo come funziona, si raffoglie qualcosa. Inseriamo qui triche, triche, no, ok. Eccola qua, quindi serve leather e wood. Dunque, poi glielo andiamo a inserire dentro. Eccola. Dov'è che c'è una marea di roba che devo buttare. Dovrebbe andare qui, ok. Allora, adesso prendiamolo. Adesso sarà un problema portarlo fuori, giusto? Ho tutto chiuso qui. Ah, vabbè, è stato ottimo. Sopra i cespugli. Vediamo sugli alberi anche. Prende tracce, vedete quanta roba prende. Quindi adesso io lo rimpirò. Quello che ho cercato. Abbiamo fatto la base qui, che è una zona molto tranquilla. Nel senso che non ci sono animali carnivori. Perché ancora essendo lì... Ho attaccato qui, lo troppo sbaglio. Il tracce, ve lo fate quante ne volete con questo animale. Bacche. Adesso ho attaccato questo qua. Ahia! Semi anche, mi pare l'aveva visto. No, ma sto attaccando tutti. Perché sono tutti qui tra i piedi, questi qua. Allora, guardate la marea di roba, di bacche, narcoberry. Così possiamo fare le nostre belle frecce narcotizzanti. Sì, vabbè, un sacco di bacche. Poi ha preso i semi, che poi si potrà fare anche con un tipo di coltivazione. Vedremo più avanti. Questa, che veramente ne serviva tantissima, è un po' di legna, però non è specializzato nella legna. Diciamo che è più specializzato nella raccolta di, tra virgolette, vegetali. Grazie.